La campania che usciva dal commissariamento di dieci anni aveva un mese fa un solo laboratorio nel quale fare i tamponi, il laboratorio del Cotugno. Questo laboratorio deve essere autorizzato, certificato dall'Istituto Superiore di Sanità. Ogni laboratorio deve avere questa autorizzazione. Abbiamo verificato dopo pochi giorni che siccome non ce la facevamo al Cotugno, siccome si accumulavano dei ritardi, abbiamo proceduto a tappeto per aprire altri laboratori senza aspettare i suoi superiori di sanità. Abbiamo fatto fare i controlli al Cotugno stesso che era autorizzato. Abbiamo aperto in due settimane, meno di due settimane, dieci laboratori per fare i tamponi. Oltre che all'ospedale Cotugno, al Moscati di Avellino, al San Pio di Benevento, parte lunedì, Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta, Policlinico Federico II, il Presidio ospedaliero di Nola, abbiamo coinvolto l'Istituto Zoprofilattico a cui abbiamo destinato i tamponi dell'Asla Napoli 3 prioritariamente, perché avevamo tempi lunghi per avere il risultato dei tamponi, l'ospedale San Paolo a Napoli, l'azienda Ruggi d'Aragona Salerno e il Presidio ospedaliero di Aversa. Oggi abbiamo dieci laboratori attivi a cui abbiamo dato questo obiettivo, dare i risultati entro le 24 ore e lavorare almeno 2000 tamponi al giorno per recuperare qualche ritardo che indubbiamente c'è stato, ma avevamo un solo laboratorio, come bisogna dirla questa cosa. Quindi noi da questo fine settimana partiremo con 2000 laboratori lavorati, processati al giorno. Già oggi siamo arrivati a 9000 tamponi fatti, ma anche qui parliamoci con chiarezza e senza demagogia. Non è che la moltiplicazione dei tamponi risolve il problema, il problema lo risolve lo stare a casa e il mantenere la distanza sociale. Nel frattempo abbiamo acquistato un milione di kit rapidi che arriveranno in Campania lunedì. Utilizzeremo questi kit rapidi per fare in primo luogo un'attività di tutela del personale medico, infermieristico, sanitario. Badate che siamo arrivati a una soglia di grande delicatezza. Se cresce la quantità di medici che vengono contagiati, noi gli ospedali faremo fatica a tenerli aperti. Quindi questa è la priorità assoluta. Niente chiacchiere. Questa è la priorità. Tutelare il personale sanitario. Poi procederemo per quanto possibile per fare screening al personale che è impegnato nel trasporto pubblico, al personale che lavora in supermercati. Poi chiederemo ovviamente anche ai prefetti di indicarci i settori di uffici statali che hanno più contatti con il pubblico. Vedremo di arrivare a fare i kit rapidi. Ovviamente il kit rapido è meno affidabile del tampone, però ti consente di individuare e di fare una prima scrematura rapida. Grazie a tutti.